Eh signori miei, va bene, ok, per mettere subito le cose in chiaro, la maglia di Dujan Vlaovic, capelli biondi per colpa di Dujan Vlaovic, la vittoria firmata Dujan Vlaovic, ragazzi ci siamo, ci siamo, ci siamo perché quella di stasera era una partita che andava assolutamente portata a casa, stasera l'abbiamo detto tante volte, non c'erano scuse, stasera bisognava vincere, io a memoria faccio fatica a ricordare una giornata di campionato in cui era così decisivo vincere, perché l'Atalanta aveva perso inaspettatamente in casa col Cagliari, l'Inter e il Milan si stavano bisticciando, la prossima c'è appunto l'Atalanta da andare ad affrontare e c'è Inter contro Napoli, quindi ancora altri punti che potrebbero saltare, se questa era la giornata da non perdere, quella che verrà sarà già, siamo già proiettati nell'altra settimana ancora più importante, ma a gran ragione, gran merito è perché c'è stato il mercato di mezzo, c'è stata una sessione invernale, un mercato di riparazione che possiamo togliere la parola di riparazione e dire potenziamento, ma ci arriviamo, un mi piace a questo video perché dobbiamo arrivare in tendenze signori con tutto ciò, dobbiamo cercare di arrivare in tendenze con un video del genere e ovviamente c'è da scaricare OneFootball, link qui sotto in descrizione, se non avete visto la partita ve la potete andare a riguardare con gli allies su OneFootball, scaricatelo, scaricatelo, scaricatelo e ci saranno anche tutti gli intervisti post partita dei protagonisti. Partiamo da come mi è apparsa la Juventus, perché questa sera ragazzi la Juve ha cambiato tutto, intanto sto guardando, ufficialmente per la prima volta in stagione siamo in zona Champions, siamo quarti davanti all'Atalanta che sia una partita da recuperare, ma per il momento non ci interessa, in questo momento siamo in zona Champions per la prima volta, top 4 per la prima volta in campionato. e ripartiamo dai nuovi acquisti, perché Allegri li butta tutti nella mischia, c'è il tridente pesante, Vladimir, il tridente pesante Vladimir, che è stato cognato in live prima, bellissimo, Vladimir ragazzi, Vladimir, da russo in una maniera incredibile, è bellissimo, però ci sono tutti e tre i nomi degli attaccanti e direi che il tridente ha funzionato signori, perché Vlaovic in gol, Di Bale Morata in assist, i due nuovi acquisti hanno segnato entrambi, mi fa ridere questa cosa, perché qualche settimana fa dicevamo, ecco, Locatelli squalificato, Tudor ora potrà preparare la partita conoscendo tutta la rosa della Juventus, bene o male, perché è la stessa rosa che ha allenato lui l'anno scorso come vice allenatore, tolto Cristiano Ronaldo e non c'è nemmeno Locatelli, quindi avrà a disposizione un vantaggio nell'affrontare una squadra che conosce bene o male la perfezione, e guarda caso arrivano due giocatori, tra l'altro sono tre gli acquisti della Juve, tutti e tre in gol, anche Gatti, che ha fatto gol ieri al Vicenza, che di solito i vicentini sono noti per mangiare i gatti come noi finalesi, al 44esimo minuto 44 gatti col Vicenza, cioè veramente ragazzi, questa giornata è stato un insieme di prese in giro incredibili, però Tudor ha preparato la partita contro una squadra che conosceva con due novità, e queste due novità sono Vlaovic e Zaccaria in gol entrambi all'esordio, veramente tanta roba, il Cobra Cherubini ragazzi ci ha visto lungo, c'è da dire che l'Ellas aveva delle assenze pesanti, questo va detto con grande sincerità, però a prescindere non era una partita facile quella con l'Ellas, lo sappiamo, il Verone è sempre una squadra un posto che andrà ad affrontare, infatti era da quattro partite che non vincevamo contro l'Ellas Verona, un po' una nostra bestia nera e questa sera l'abbiamo gestita secondo me molto bene, poi ricordiamoci che quella di stasera è una partita storica per la Juve, per quest'anno, nel senso che per la prima volta avevamo un tridente effettivo, e non un tridente falso, non un tridente finto, quindi con un esterno, tre attaccanti, tre giocatori che sono tre attaccanti, e mi sembra che si siano calati al meglio nella parte, Allegri chiedeva corsa, sacrificio, sudore, secondo me ci sono stati, poi siamo stati un po' disordinati, un po' imprecisi tecnicamente, però ho visto una Juventus che aveva voglia di dominare la partita, di fare la partita, poi non sempre c'era uscita, perché l'Ellas Verona, questo bisogna riconoscerlo, nonostante le difficoltà di formazione, signori, questi dal primo all'ultimo minuto, pressing offensivo, non hanno mollato niente, hanno cercato sempre di pressare, poi non sono riusciti a creare palle e gol, non sono riusciti a convertire le azioni che hanno creato, però loro hanno pressato e sono rimasti nella partita alla ricerca di un episodio, anche di un tiro, di una deviazione, di qualcosa che potesse riaprire la partita, e la Juve è stata brava, forse anche fortunata in alcuni frangenti, ma brava a rimanere all'interno della partita, a rimanere concentrata, un ennesimo clean sheet, un altro risultato utile consecutivo, e in più questo nuovo modo di difendere, come vi dicevo, come abbiamo parlato, ipotizzato anche stamattina, e l'avevamo beccato, perché avevamo intuito che Artur potesse giocare davanti alla difesa, cosa che è avvenuta effettivamente, che Zaccaria potesse coprire la zona di destra, per questa proposizione, anche per questo modo di coprire, di correre in avanti, e tra l'altro il gol nasce proprio per questo, con Zaccaria che si propone lì, dopo una bellissima giocata di Dybala, gli assist di Dybala e di Morata, ragazzi, sono dei bellissimi assist, sono delle bellissime giocate, abbiamo creato due o tre occasioni fatte bene, quella in cui Vlaovic rischia la doppietta nel primo tempo, sempre su Vladimor, perché è la palla di Dybala per Morata che la mette in mezzo per Vlaovic, quindi veramente oggi, per la prima volta in stagione, mi è sembrato di vedere, in campo, una squadra che si completava bene, per caratteristiche, che era amalgamata bene, ma soprattutto lì davanti, con un giocatore come Vlaovic, io non so se l'ho avuta solo io questa sensazione, questa impressione, ma un giocatore che mi riempie l'aria di rigore, e che so che è lì e che lo trovo, e che se voglio andare a cercarlo, c'è, perché quello fa, e quello è bravo a fare, ed è abile a giocare spalla alla porta, ed è abile ad attaccare i pali, è abile ad attaccare l'area, mi sono sentito tranquillo, tranquillo perché in ogni momento poteva accadere qualcosa, c'era l'opportunità davvero di ritrovarsi dal niente a fare un gol, o creare un'occasione, o creare un pericolo, infatti il gol dell'1-0 a cosa nasce? Da un lancio lungo di Scesni, una palla recuperata nuovamente, dal Verona poi, il gioiello di Dybala, perché la palla di Dybala è stupenda, e l'intuizione, la bravura, la freddezza di Dujan Vlaovic a mettere la palla lì, il gol all'esordio, dopo 13 minuti, 12 minuti, 13 minuti, in maglia bianconero, questo fa gol, io stasera mi porto fuori solo sensazioni positive, poi è ovvio che, come dicevo nel video di ieri, o dell'altro ieri, ora non ricordo, non è che se vinci la partita con l'Ellas sei un fenomeno, non ci sono più problemi, se la perdi sei scarsissimo, hai sbagliato il mercato, l'indicazione è buona, l'indicazione è, la Juve ha fatto un buon mercato, un ottimo mercato, anche nei singoli, ma stasera si è vista una buona prestazione di squadra, secondo me migliorabile, perché non abbiamo fatto la partita della vita, l'abbiamo fatta contro, appunto un Verona rimaneggiato, in casa nostra, quello che volete, però, secondo me stasera si è visto per la prima volta qualcosa di diverso, una linea a seguire, una linea a seguire, che era difficilmente seguibile fino a questo momento, proprio perché mancavano delle caratteristiche nei giocatori, e io ho visto un Alvaro Morata, ragazzi, fare una partita questa sera, con una libertà mentale incredibile, perché sapeva che non era più affar suo, riempire l'area di rigore, concentrarsi sul gol, l'ho visto veramente libero di svariare, di concentrarsi a fare quello che sa fare meglio, ma queste sono cose importantissime, ho visto paradossalmente un ottimo Rabiot, che ha fatto una bella partita, poi abbiamo rischiato addirittura, ragazzi, di andare sul 3-0, quindi io, che dire, follettini, follettini, io sono molto soddisfatto di tutto ciò, sono veramente, vado a letto contento stasera, di un esordio di due giocatori così, signori, fossero tutti così gli esordi, fossero tutti così, campionati di riparazione, fossero tutti così le giornate, signori, io sono contento, per forza di cose nell'aria, non so se la sentite questo, questo odore di quarto posto che si avvicina, vediamo come va, già proiettati a giovedì, che c'è la Coppa Italia, è la settimana prossima, la domenica prossima, dove c'è la partita con l'Atalanta, però, bene, dobbiamo dare continuità, dobbiamo migliorare, perché non abbiamo vinto niente, non abbiamo risolto niente, però, una linea a seguire si intravede, Vladimir.